Stabilire la occupabilità di una persona indagandone il percorso professionale e personale. È la nuova frontiera della formazione, quella che parte dall'individuo e dalla valutazione dei suoi interessi, delle sue competenze ed esperienze, elementi cognitivi fondamentali per indirizzarlo verso un nuovo possibile lavoro. Di questo, in sintesi, si occupa il programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, illustrato oggi nell'ambito di un seminario formativo organizzato a Francavilla al Mare. Al programma GOL si può aderire volontariamente per migliorarsi oppure obbligatoriamente in quanto percettori di reddito di cittadinanza. Tuttavia, ha spiegato il funzionario del Centro per l'Impiego di Pescara, anche in questo secondo caso, più che un adempimento del dovere, GOL viene vissuto come preziosa opportunità. Di questa e di altre opportunità di formazione e di lavoro presenti sul territorio e anche poco conosciute, si è parlato appunto a Francavilla al Mare, nel corso dell'incontro, un GOL per il futuro. L'iniziativa è stata curata dall'assessorato al sociale e all'istruzione, che fa capo all'assessore Leila Di Giulio, e dall'ente di formazione francavillese accreditato Best Ideas, diretto da Guerino Danese. Un'occasione per parlare di lavoro e di formazione a tutti i potenziali interessati all'argomento, ha commentato l'assessore Di Giulio, alla presenza di professionalità inserite nel sistema di domanda e offerta di lavoro e in grado di affrontare concretamente il tema. All'incontro, moderato dal giornalista del quotidiano Il Centro, Andrea Mori, che è anche conduttore della trasmissione di rete 8, traguardo lavoro, oltre alla Di Giulio e a Danese, sono intervenuti anche il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, l'assessore alle politiche giovanili Cristina Rapino, l'avvocato Luca Bucciarelli, funzionario del Centro per l'impiego di Pescara, che ha illustrato il progetto, e Gianluca Pesce, presidente del consorzio turistico Città di Francavilla al Mare.